Cari amici di Dialoghi Interiori, benvenuti al 28esimo episodio della rubrica sulle vostre esperienze personali. Finalmente oggi terminiamo la saga DC, la saga del povero ricco. Siamo arrivati al penultimo episodio, leggiamo insieme penultimo ed ultimo. La sesta puntata si chiama La Voce Interiore. Avevo un budget mensile ed un banco matta a disposizione ma di davvero mio avevo poco e niente. Non ero autonoma, mi sentivo sempre più come un'ospite precaria in balia dei capricci di una persona inaffidabile e volubile. Sentivo una voce dentro di me che mi spingeva a mettermi in salvo, una voce insistente che mi diceva di stare attenta. Provavo un'inquitudine crescente ed un senso di ansia quasi perenne. Avvertivo una sensazione incombente che mi faceva stare allerta con il cuore in gola, come un animale braccato. Inizio ad accantonare più denaro possibile ma senza testare sospetti di prelievi troppo frequenti, a fare acquisti mirati, scorta delle cose essenziali come per far fronte ad un periodo annunciato di distrettezze. Comincio a purificare casa, a lavare i pavimenti ogni giorno per togliere negatività, accendo candele. Il mio bisogno di spiritualità si intensifica. In quel periodo, grazie ad una persona cara, trovo un terapista molto in gamba con la quale inizio a lavorare su me stessa e sciolgo diversi nodi che mi aiutano a risolvere questioni irrisolte. Il primo incontro lo passo a piangere ininterrottamente. Durante le nostre intense sedute prendo appunti che studio a casa. Queste sessioni mi rafforzano e mi sento salda in mezzo alla tempesta. Lavoro duramente su me stessa e la mia mente è lucida ed analitica. Decido di tenere il tutto per me. Manca poco alla fine. Ripercorrere questa vicenda mi sta richiedendo molta energia e i ricordi si confondono sul piano temporale. Gli avvenimenti si succedono in modo sempre più rapido. Li riporterò nel modo più breve possibile al fine di trasmettere un'immagine nitida di come la situazione è degenerata sempre più. Tenete duro. Durante la settimana mi scrive brevi frasi in Skype. Ha mille cose da fare. Devi andare sempre in banca o alla posta. Ormai me lo ripete spesso. Mi liquida dopo pochi minuti. È spazientito e disinteressato e ogni cosa che dico per lui è una sciocchezza. Non capisco perché quasi ogni giorno deve andare in banca o alla posta. Lo vedo nei fine settimana ma è come se non ci fosse. Ora non si siede più accanto a me sul divano con il portatile. Si mette di fronte dando le spalle alla finestra perché dice che così ci vede meglio. Era ovviamente una scusa per farmi vedere cosa stava facendo ma lo capì dopo. Mi chiede di tradurre delle semplici frasi in inglese. Lo trovo strano. Non gliene mai fregato nulla dell'inglese. Nella sua auto vedo l'etichetta di una marca di abbigliamento per bambini. Lo trovo davvero strano e mi viene un tuffo al cuore. Ancora non lo sapevo ma stavo notando le tracce che lui inavvertitamente lasciava dietro di sé. Nei pochi momenti in cui mi dedica spazio gli comunico che ho deciso di interrompere la pillola. Mi stava facendo più male che bene e lui risponde che posso fare ciò che voglio però se dovessi rimanere incinta lui per correttezza provvederà all'eventuale figlio ma non ha interesse a diventare padre. I figli sono una seccatura. Proprio lui che aveva appassionatamente dichiarato di volersi mettere in ginocchio e di implorarmi di dargli un figlio. Quando è a casa è sempre al portatile. Mi sento sola ed ignorata. Trovo strano che abbia smesso di curare il proprio aspetto e l'abbigliamento. Indossa sempre le stesse cose economiche. Ora logore. È nervoso e risponde male. Non molla il cellulare un attimo. So che per lavoro deve essere sempre disponibile ma adesso mi sembra davvero troppo. I miei sensi sono a mille. In sua presenza ho sempre la tachicardia. Una sera torna a casa e quando scopre che il cellulare non si accende da fuori di matto. La reazione è talmente esagerata da sembrare irreale. Sembra un tossico dipendente in astinenza. Mentre si fa la doccia decido di guardare le sue password. Memore della mia precedente esperienza con il narcisista inglese so che è la cosa giusta da fare. Così le memorizzo facilmente. Una notte nel dormiveglia in uno stato di semi-incoscienza vedo che accanto a lui c'è un'ombra scura indefinita con due punti rossi al posto degli occhi. Al momento penso sia un sogno e chiudo gli occhi. Solo più tardi realizzerò che cosa avevo visto quella notte. No comment. Voi sapete di cosa parlo. Un giorno è a fare la doccia. Ha lasciato il telefono sul tavolo rivolto verso l'alto. Stranamente non lo aveva portato con sé. Gli arriva un messaggio e sbircio il display. Il messaggio è da parte di una donna ed è in inglese. Gli chiedo spiegazioni e liquida la cosa dicendo che sarà uno dei soliti messaggi di spam che spesso riceve. Non sono molto convinta e la mia inquietudine aumenta. Faccio finta di crederci. Il mio compleanno si sta avvicinando. Non ho entusiasmo a riguardo. Sarà un giorno come un altro. Ho bisogno di segnali chiari come se non ne avessi ricevuti abbastanza. Devo capire quale direzione prendere. So come devo fare. Basta che io chiedo ai miei cari che non ci sono più di inviarmi un segno. Nella notte a cavallo del mio compleanno ho un sogno premonitore. Il mio inconscio si è sempre espresso attraverso simboli. Ho sognato che durante un terremoto riuscivo a stare in piedi ed ero molto tranquilla. Al mio risveglio ho capito di aver ricevuto un regalo. A breve ci sarebbe stato un grande cambiamento. Quando torna da me per festeggiare il mio compleanno mi porto un regalo una borsa firmata. Abituata come era la sua distrazione perenne ne rimango davvero sorpresa. Forse mi sbagliavo su di lui e rinsavito. Dopo 15 giorni sdraiati a leggere un accanto all'altra lo vedo talmente assorto su suo tablet che mi sporgo per vedere cosa sta facendo. Sta traducendo delle frasi d'amore in inglese con il traduttore automatico. A presto con la settima puntata della saga del povero ricco. Perché noi andiamo a leggere subito. Comunque Cimo ci devi spiegare st'ombra con gli occhi rossi perché poi ognuno di noi quando ci ha avuto a che fa con queste persone ci ha avuto delle esperienze paranormali e questo io lo studio e me ne occupo nel gruppo di studio Dialoghi interiori il lato esoterico del narcisismo. Ho fatto anche una rubrica lo ripeto sempre magari dopo la rimetto anche narcisismo e spiritualità ma tu adesso ci devi mandare un'altra mail dove ci spieghi che intendi tu per tua esperienza con questa figura perché mi dici no comment amore mio no non posso accettare il no comment aspetto un'altra mail. Andiamo a chiudere la saga. Settima puntata adesso andiamo a leggere. La fine è solo l'inizio. Rimango interdetta mi si sdoppia la vista leggo e rileggo la stessa frase quel suo stile poetico le stesse parole che usava all'inizio con me ma perché lo sta facendo? Sta usando il traduttore automanico per comunicare con un'altra donna. Lui è talmente concentrato da lasciare che io scopra in quel modo così triste il suo tradimento. Non spiega nulla. Dice che non è niente che sono solo amici. Gli cito quello che ha scritto e gli dico che è un bugiardo che non scrivi cose così ad un'amica. Lui guarda fisso lo schermo il lineamento induriti in silenzio. Ripete le stesse cose non ha niente da dire. Alza una barriera inespugnabile. Non piango ma sento una voragine dentro di me. Mi si chiude lo stomaco. provo un'angoscia infinita, un senso di rassegnazione risoluta. Ho le palpitazioni e mi gira la testa. Sto sudando e mi viene da vomitare. Quella notte non dormo. Sono in preda all'angoscia. Non chiudo occhio. Solo il sonno è in grado di darmi sollievo. Quando alla mattina apro gli occhi l'assurdità della realtà mi piomba addosso e l'angoscia mi attanaglia di nuovo. Durante quel fine settimana lui non ha impegni. Saranno ore lunghissime. Voglio che mi parli. Voglio capire perché sta facendo così. Davanti alla sua durezza scoppio a piangere disperatamente. Lui nell'altra stanza rimane impossibile, distante e freddo. Quando però gli parlo sono calma. L'esperienza di terapia mi aiuta ad essere razionale ed analitica. Non dice una parola. Non dice nulla. Non dà spiegazioni. Mi sembra di morire. Qualcosa dentro di me si spezza. Non lo riconosco più. È un estraneo e la persona di cui mi ero innamorata non esiste più. Forse non è mai esistita. Mi sento persa. Quando rimango sola in casa cerco di capire cosa devo fare. Non ho appetito. Non riesco né a mangiare né a bere. Mi introduco nei suoi account e scopro che con un nome diverso ha contattato quattro donne del Ghana. Quelle quale ci attacca quotidianamente. Alle quali manda denaro, medicine, abiti e cibo. Dio mio cosa sta facendo? Come è arrivato fino a lì? Cosa lo ha spinto a farlo? Perché? Dice a tutte le stesse cose. Parla d'amore. Racconta la sua vita. Quello che fa ogni giorno. Dice che presto mi lascerà. Non riesco a credere a quello che leggo. Capisco che ho i giorni contati. Dice ad ognuna di loro di volerle incontrare. Devono organizzarsi. Ma servono soldi per il visto. Chiedono soldi in continuazione per qualsiasi cosa. Sta ripetendo lo stesso schema. Anche noi abbiamo iniziato così. Anche a me diceva le stesse cose. Ha tradito sua moglie per mettersi con me ed ora sta facendo la stessa cosa con me. E chissà cos'altro ha fatto. Capisco che quell'uomo è malato ed è dipendente dalle chat di incontri. Salvo e stampo tutto. Mi viene un barlume di speranza disperata. Forse è stato irretito. Forse non sa di essere stato ingannato. Sono fuori di me e comincio a fare ricerche approfondite sull'argomento. Risolverò tutto. Voglio provare a farlo ragionare. Gli scrivo una mail. Ho l'assurda speranza che come per magia sia tutto uno scherzo e mi dica che mi ama. Tentativo inutile. Ci incontreremo un'ultima volta e andremo a cena. Adesso lascio il telefono in bella vista sul tavolo e leggo sfacciatamente i messaggi che gli arrivano. Sto male. Lui non fa nulla per nasconderli. Non lo riconosco più. È cattivo. Sembra quasi che si diverta. Che provi piacere a farmi del male. È terribile non fidarsi più di una persona. Il sospetto è un tarlo affamato. Ha la faccia tosta di chiedermi perché non mangio, perché non mi sento bene. Non so come ho fatto a sopportare quelle ultime ore in sua compagnia senza impazzire. Ma in qualche modo sono sopravvissuta. Più tardi quella sera rientrare in quell'appartamento che tanto avevo amato e sistemato con amore mi accorgo che sarà una delle ultime volte che varcherò quella soglia di quel rifugio a me caro. All'improvviso comincia a baciarmi furiosamente. Dice che l'ho provocato. Gli ho fatto un incantesimo. Era da tempo che non mi baciava così e capisco che sarà il nostro ultimo bacio. Il giorno dopo torna al lavoro e mi arriva a mail nella quale mi lascia. Le prime due righe sono dedicate a me. A quanto sono una cara persona, amorevole, bla bla bla. Due righe, che spreco. Il resto della mail, lunghissima, parla di sé e di come ha deciso di lasciarmi perché vuole restare solo. Non vuole né un figlio né una famiglia. Nega tutto quello che diceva di volere con me fin dall'inizio. Dice delle cose agghiaccianti. Dichiera di essere attirato dal marcio e corrotto e volontariamente ha deciso di intraprendere un percorso che lo porterà a rovinarsi e non gli interessano le conseguenze. Dice che pagherà il trasloco e che posso metterci tutto il tempo che voglio. Però mi ama. Ancora mi amirà per sempre. Ennesima contraddizione. Trovo un traslocatore. Lo sento al telefono e distinto. Sento che è quello giusto. È gentile. Pianifichiamo tutto. Mi chiede il motivo del trasferimento e gli spiego la situazione. Mi consiglia di comunicare al mio ex una cifra più alta così da potermi tenere il resto. Questa piccola vendetta mi piace e trovo che sia appropriata. So che pur di liberarsi di me pagherà qualsiasi cifra senza dire nulla. Ho paura che blocchi la carta quindi compro le cose che mi servono per il trasloco senza badare a spese. Faccio il piano alla macchina. Non mangio più. A malapena riesco a bere qualcosa di caldo. La mia mente corre. Sono fatta di adrenalina e ho l'energia a mille. Sono esausta. Non dormo. E quando dormo il sonno porta via i pensieri. Il giorno dopo appena apro gli occhi riprendo coscienza. È come un incubo. Non so come faccio a non impazzire. Continuo a scrivere liste dettagliate delle cose da fare perché mi aiutano a rimanere lucida. Non ho letteralmente più l'agrivo la tachicardia. Sono diventata un'automa. Mi sento come fuori da me stessa. Il dolore e l'angoscia non mi abbandonano un attimo e mi ci abituo. Bevo solo brodo. Perdo molto peso. L'unica cosa che mi dà conforto è fare lunghi bagni caldi alla sera mentre sono sola con i miei pensieri martellanti. Sto male. Lui mi manda messaggi a monosillabi e mi chiede perché non sto bene. Affronto l'ultima seduta di terapia e mentre parlo con la terapista le esprimo i miei dubbi. Vorrei un segno. Sì, un altro. In quel momento il traslocatore mi chiama per propormi delle date ed io scelgo. arriva il giorno della mia partenza. Il traslocatore è bravo, attento, rapido. Devo recarmi all'azienda del mio ex perché ha i soldi per il trasloco e devo ritirare degli oggetti personali che lui ha conservato per me. È da un mese che non ci vediamo. Rimane come incantato. Nota con ammirazione che sono dimagrita. E come sto bene? Grande stronzo che faccia tosta. La sensazione che ho è che sembra vergognarsi. È strano. Non riesce a guardarmi in faccia. Io faccio finta di nulla e procedo a fare l'inventario delle mie cose. La sua espressione affranta. Prendo i soldi, lo saluto con cortesia, lo ringrazio, giro le spalle e me ne vado a testa alta. Penso. Ed ora guardami il culo e mangia di le mani. Compio il tragitto verso casa come sotto ipnosi. Più mi avvicino alla meta e più mi sento leggera, determinata e invincibile. So che tutto quello che affronterò d'ora in poi non sarà nulla in confronto a quello che ho superato. Mi scendono lacrime silenziose e non mi volto più indietro. Epilogo. Mi ha cercata più volte, mi ha telefonato. Per me ha solo delle belle parole. Sono stata una signora nel lasciargli la casa in ordine e mi ringrazia. Ancora non sa, forse, che gli ho riempito di lassativo tutto quello che potevo. Gli manco. È completamente solo. Mi pensa. Mi manda fotografie. Mi manda gli auguri e le feste comandate. Per me diventa una tortura. Così smetto di rispondere. Non mi ha più cercata. Ogni tanto lo sogno ancora, ma al mattino non ricordo più nulla. Da questa esperienza ho imparato che è fondamentale essere autonome, perché con l'autonomia si ha sempre una via di fuga. Dobbiamo sempre avere un piano B. Ho imparato che la vera casa non è un luogo fisico, ma è dentro di noi e ce la portiamo appresso ovunque andiamo. Ho imparato che il valore di un uomo non è dato dalle cose che possiede e lo sfoggio della ricchezza non attira più la mia attenzione. Cresciuta con poco ho imparato che il denaro è energia e ho imparato a gestirlo, a spenderlo senza senza sensi di colpa e a risparmiarlo. Per troppi anni ho creduto di ottenere dei crediti, cercando di essere la donna perfetta, ideale, facendo rinunce per convincere l'altro che ero degna di farmi amare, cercando di essere paziente e comprensiva e tutto ciò non mi ha portato a nulla se non a relazioni fallimentari. Amare non significa immolarsi con il sacrificio e le rinunce, non ci si deve annullare per l'amore. Dopo sei mesi dal mio ritorno a casa e ad una ricerca applicata e costante ho trovato un lavoro meraviglioso, sono riuscita ad andare a vivere da sola, ho avuto qualche avventura di poco conto, ho viaggiato da sola, ho ricostruito la mia vita, ho trovato mio marito ed il resto è il mio bellissimo presente. Cì, grazie, che meravigliosa saga, poi ti ripeto, scritta da te che scrivi così bene, è stato meraviglioso leggerla. Ed io, siccome l'epilogo parla da solo, non voglio aggiungere niente, se non il mio più sentito, grazie e diciamo l'invito rinnovato a scriverci rispetto a questa ombra con gli occhi rossi. Qui dobbiamo aprire un nuovo capitolo, un capitolo più esoterico e spirituale. Quindi dagli tutta e grazie ancora C. Adesso leggiamo la testimonianza di S. Io ragazzi sto andando in ordine cronologico, non in ordine di arrivo delle mail, quindi poi nel prossimo episodio continuerò con le altre che ancora non sono riuscita a leggere, ma piano piano vi leggo tutti. Carissima Giulia, mi chiamo S ed ho scoperto dopo la tua pagina Instagram ed in seguito anche il tuo canale YouTube. Allora, da dove posso cominciare, diciamo che sono sempre stata una persona un po' introversa e ansiosa, questo forse dovuto anche dalla difficile aria che si respira in famiglia. Fino all'inizio dell'università non avevo mai avuto storie serie, diciamo, quindi avevo aspettative molto alte su quella che sarebbe stata la mia prima vera storia d'amore. Dopo poche settimane dall'inizio dell'università conosco un ragazzo, un mio compagno di corso, che per via evidentemente della sua spontaneità mi aveva colpito positivamente. Come ho detto non avendo mai avuto una storia seria non avevo campanelli d'allarme e pensavo che sarebbe solo potuta essere un'esperienza positiva per me. I primi mesi diciamo che fila tutto abbastanza liscio, anzi ero io a dir poco felice perché stavo vivendo una situazione nuova e piacevole. Dopo poco però le cose cambiarono ed è iniziato ad uscire fuori pesantemente quella che era la sua vera personalità, quindi erano continue discussioni per ogni cosa e ovviamente era sempre lui di iniziare senza un reale motivo. Sono stata con questa persona per quasi quattro anni e ne ho vissute di tutti i colori, potrei lencarti tantissimi episodi, ma in parte ho cercato di rimuovere, ora ho 27 anni e sono passati tre anni dalla fine di quel disagio. Però quello che ho capito purtroppo a posteriori è che effettivamente era una persona cattiva, ha sempre cercato di annientarmi dal punto di vista dell'autostima, questo lo faceva spessissimo. Figurati che una volta mentre mi stavo sistemando i capelli per uscire se ne esce dicendo è inutile che ti sistemi, tanto sei un mostro lo stesso con quei brufoli per via dell'acne che avevo a causa di uno squilibrio ormonale. Tra le tante angherie si aggiungevano sempre paragoni con altre persone che erano meglio di me in tutto. Pensa che quando ho dato il mio ultimo esame d'ho preso 30 e lode anziché essere felice per me mi ha risposto seccato perché lui era convinto che non lo avrei passato e se ci sono riuscita è stato solo per merito suo che mi ha aiutato. In tutto ciò sua madre gli dava manforte e lui me lo diceva sempre che anche i suoi parenti pensavano certe cose di me. Io purtroppo all'inizio quando mi sentivo sicura gli avevo anche raccontato di situazioni negative vissute in passato e del desiderio che avevo avuto di andarmene a causa anche del bullismo vissuto quando era alle medie e lui durante le discussioni per denigrarmi lo tirava fuori quasi come fosse una colpa o io fossi pazza. Alla fine un bel giorno dopo tante volte che ci avevo provato sono riuscita a mollarlo per sempre ho avuto molta forza in quell'occasione che molte volte prima non avevo mai avuto perché lui per quanto gli facessi così schifo non mi lasciava mai andare ed anzi me ricercava sempre come l'ho fatto dopo che sono riuscita a darci un taglio una volta per tutte. Mi ha ricontattato a sorpresa a maggio di quest'anno. A questo punto promisi a me stessa che non avrei mai più fatto in modo di essere trattata così da un uomo ma purtroppo alla fine del 2019 dopo alcune conoscenze non andate in porto mi imbatto in un ragazzo conosciuto in palestra. Non l'avessi mai fatto all'inizio mi è sembrato quasi perfetto era deciso non timido e sembrava veramente interessato a me. Facciamo anche un weekend al mare insieme e stiamo bene dopo una settimana però non si fa più sentire io gli chiedo spiegazioni perché mi sembrava strano. In parte diciamo che avevo capito anche io che forse nonostante ci stessi bene c'era qualcosa che non andava anche nei discorsi che mi faceva. Lui mi dice che non si sentiva pronto che era uscito da un anno e mezzo da una relazione lunga e a questo punto mi domando cosa la conosci a fare una persona? Comunque detto questo io non so per quale motivo mi sentissi persa forse perché era un periodo particolare della mia vita perché ho vissuto delle sensazioni che non vivevo da molto mi sentivo come abbandonata e decido di ricontattarlo alcuni giorni dopo e gli dico apertamente che non stavo bene e che facevo fatica a fare come se fra noi non fosse successo niente. Di lì lui poi mi chiede di vederci e sarà quasi sempre lui a contattarmi a dirmi che comunque stava bene con me anche se non si sentiva di concretizzare e che non mi voleva usare. Io razionalmente ero consapevole che fosse una situazione che non portava da nessuna parte ma forse volevo fargli cambiare idea anche perché mi aveva raccontato aneddoti della sua vita che non raccontava a tutti a suo dire. Poi in mezzo c'è stata anche la quarantena ed era sempre lui a cercarmi mi aveva addirittura detto che se la situazione fosse migliorata saremmo andati via per il mio compleanno puoi solo capire come mi sentissi alla fine per il mio compleanno quasi neanche mi ha fatto gli auguri. In realtà poi non si faceva sentire per un po' per poi ricercarmi e fare come se niente fosse. Alla mia richiesta di spiegazioni diceva che tanto non eravamo fidanzati o aveva sempre una giustificazione ed ero io che non si capisce che cosa pretendessi. Io volevo solo rispetto visto che a lui lo davo. Io comunque mi ero affezionata a lui purtroppo e piano piano è uscita anche la sua feroce natura. Innanzitutto ritrattando cose che aveva detto lui facendomi sentire stupida e ingenua facendomi sentire sempre sbagliata. A luglio mi sono laureata per la seconda volta e lui ultimamente diceva spesso che era ora iniziassi a fare qualcosa di utile perché studiare non è mica faticoso. All'inizio mi faceva complimenti per il mio percorso di studi e lui era era bene fiero di non aver studiato perché sì che lui si fa il culo a differenza degli altri. Lui era meglio di tutti era perfetto sia fisicamente che nel resto a sue dire. Lui sì che le donne le faceva stare bene e come in pratica si elogiava per qualsiasi cosa mentre tutti gli altri non valgono niente. Per finire ti racconto dell'ultimo episodio drammatico con lui. Cerca tre settimane fa eravamo in macchina con un suo amico e si stava parlando del più e del meno. Lui esordisce con un discorso misogeno le donne si fanno pagare sempre tutto cosa che io non ho mai fatto e gli ho fatto notare di evitare di generalizzare. Da lì esplode. Comincia ad urlare in macchina e mi riporta di corsa a casa guidando come un pazzo tanto che anche il suo amico si è stupito. Mi urlava che non valgo niente che sono un idiota che io non ho niente da insegnare. A lui di sicuro che non so come si vive perché sì ho due lauree ma non ho fatto niente e tante altre cattiverie tirando fuori cose personali che gli avevo raccontato. Il suo tono era rabbioso aveva gli occhi fuori dalle orbite e io non avevo capito cosa fessi fatto di tanto orribile. Se non ci fosse stato anche il suo amico avrei avuto paura sinceramente. Si era anche arrabbiato perché mi ero messo a piangere dicendo che la mia età non si piange e che sono come la sua ex che piangeva sempre. Io da lì non l'ho più cercato ma ti confesso che ci sto male sia per quello che mi ha detto e anche per la sua indifferenza. Neanche un messaggio di scuse, nulla proprio, è sparito. Invece vedo che tranquillamente posta una foto con una ragazza penso conosciuta mentre era via dopo un giorno di vacanza. Io gli avrei voluto scrivere quantomeno per la sua incoerenza ma tanto così capirebbe che ci sto male e sicuramente gli farebbe piacere. Io dovevo farmi forza e lasciarlo andare. L'ho tolto dai social e ho cancellato il numero. Lui se la gode tranquillamente e io sto male non è giusto. Lui era finto con me e non prova nessuna empatia. Ho capito che tutte le cattiverie che diceva della sua ex sono stupidaggini. Una persona del genere dovunque andrà spargerà sofferenza. Da un po' di tempo ho deciso che certe problematiche devo affrontarle con l'aiuto di uno psicologo. Sospettando di poter ottenere una visita con l'ASL. Anche per l'ansia che vivo sempre. Certo è che già di mio non vivo una situazione di vita serena. Tant'è che ho anche pensato di non poterne più perché quando si soffrono queste sopraffazioni psicologiche sia in famiglia che all'esterno non si ha più fiducia in nessuno. Fortunatamente mia madre mi aiuta tanto e fa quello che può però quando le persone non conoscono certi tipi di abusi psicologici come tali si tende a minimizzare o a dire che le colpe sono di entrambi quando una relazione conoscenza non va ma non si può minimizzare cose di questo tipo che possono portare a seri problemi e io l'ho capito a me spese purtroppo. Scusami per la lunghissima mail ma ho colto l'occasione di sfogarmi anche se chiaramente non ho potuto raccontare tutto nel dettaglio per questioni di tempo e di spazio. Spero di essermi spiegata e di poter contribuire anche io ad aiutare con le mie testimonianze. Come ti ho accennato su Instagram il tuo contributo mi sta aiutando tanto e riesco a capire grazie anche alle altre testimonianze che non sono sola. Siamo in tanti a vivere queste situazioni. Purtroppo di questi personaggi ce ne sono tanti e continueranno sempre a fare del male. Ora mi auguro solo un po' di tranquillità e almeno di trovare qualcuno che sappia cos'è il rispetto e i sentimenti veri. Grazie a essere. Hai detto una frase importantissima che è questa. Una persona del genere dovunque andrà spargerà sofferenza. Questa è la più grande verità. Noi che abbiamo capito che queste persone sono abusanti, sono cattive, sono malvagie, dobbiamo assolutamente allontanarci. Ne hai fatto benissimo a chiedere aiuto ad un esperto perché vedrai che ti farà assumere quella sicurezza in te e quella autoalleanza che dico sempre, che mi ha insegnato la mia psicologa e quindi la prossima volta quando ti si avvicinerà una persona così malvagia e negativa saprai riconoscerla molto più velocemente e l'allontanerai già da subito. Se noi tutti riuscissimo a fare un lavoro del genere queste persone non avrebbero più cibo, non avrebbero più energia. Quindi il risveglio di tutte le vittime di abuso, di tutte le potenziali prede, di tutte le persone mi viene da dire in buona fede. Perché è vero che uno non deve dividere il mondo in buoni e cattivi, le sfumature sono tantissime, ma esistono persone in buona fede e persone che non sono in buona fede. Questo non l'ho inventato io è l'amara verità. Quindi chi diciamo è in buona fede deve un po' cominciare ad informarsi, a lavorare su se stesso, a svegliarsi per capire che l'unico modo per fermare queste persone è non dargli più energia, non dargli più attenzione. Quindi brava esse, dagli giorni è tutta. Adesso farai una vita molto migliore rispetto a prima e quindi io ringrazio te per la tua testimonianza preziosa, ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato fino a qui e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!